Allora andiamo a creare le squadre del grande torneo video nazistico, pazzesco No, Blur Blur Pazzesco, è Blur Blur E invece no, di Becchi Edoardo il fascista Nooo Così si chiama, e vuoi da me? Il mio cane No no, ma c'ho il fazzone su te Vabbè, su quello se lo portavo a casa almeno Signori, il primo gioco del torneo videogiochistico E' proprio lui No, 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 no Una cosa che andava fatta, che non abbiamo fatto, per cui non vale ed è annullato subito Devi selezionare tutto e fare shuffle Mamma mia, c'ha ragione il maestro Bella chiamata del maestro Signori, il primo gioco del torneo videogiochistico E' il seguente E' una possibilità su 100 che ti esce Nooo Mamma, era meglio uno Che è uscito? FIFA 24 Oh madonna, ma cosa si fa? Ma quanti pacchi dobbiamo aprire? 10 pacchi, sono 10 pacchi da 7500 Bisogna prendere solo l'uverul del pacco proprio, non del pacco Ok Ah, il 7500, via Dai, aperta, beh, dai, apri Apero No, è una donna Oddio, Toti Il coraggio È una donna Kerolin, Micoli 80, voi quanto avete trovato? 80 83, mereta Ma che cos'è sta bordo, vomitevole Ma chi è? Ah, questo Mukhtar Dai ragazzi, ma chi è Mukhtar? Quanto c'avete? Jota, 78 Bello 80 80, 1-1 Bello, Mukhtar Il magnifico E' Icona Come Icona? No, non è Icona No, è non raro, giammà È non raro Arueola C'è 78, porco Dio Carlos Soler, 79 Ah, che gioco di merda Grande, Carlos Vabbè, dai, da Atletico Madrid ci avrà 9, lupo Umano almeno Eh, questo Eh, questo Alla Gallardo 80 Alla Gallardo Ah, 79 Sì, sì Vinto voi Vinto voi Wolf of Wall Street 78 Der Borussia Dortmund È proprio lei Pervela Froms 85 Ah, vabbè Ciao, ma arrivederci Che fan Perca Madonna The Best Non ci date i giocatori Oh, oh, oh Oh, puttata due Puttata due Mateus Mateus Gugna 78 Buono Questa è massimo 75 Non ci credo 75 L'anno 78 Aliendro 78 È imbarazzante È imbarazzante A Beller 76 Ho il vomito England 82 Cioè, porco Dio Ma che cazzo Dei recounti c'ho Dei che era tira Finisce con un 7 a 3 Questa sfida Schillatissima Niente The Best Che cosa ci darà mai Un bellissimo Cruciverba Mamma mia Un bel Cruciverba Bella testa Cruciverba Sì, ma il via Serve il via Serve il via Benvenuto al circo Di Davide Paonessa Ok, è partito il tempo Già però 3, 2 Porco Dio Del circo Rete Rete Ma vedi che sei un fenomeno Benissimo Una piccola repubblica Non lontana da Riccione San Marino No, cos'è Repubblica? Sì, Repubblica di San Marino RSM 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 Perfetto Abbreviazione di senatore Senna Ok Uomini non credenti Atei Atei Eccoci, eccoci, eccoci Sfidano il domatore Di tutto Tesla Scheletrini Qualsiasi roba Anche i goblin puoi usare Non c'ha senso Leone? Leone? Sfidano il domatore Ah, leoni Bravo Bravo Diverse associazioni spingono affinché essi non lavorano più nei circhi Animali Animali Bravissimo Bravissimo Sei sul pezzo Breve articolo che inizia con la A A, 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 A Art Breve articolo Porco Dio Ah, vaffanculo Questo è Questo Polonia è PL E quindi Polonia Alias Oddio vero Porco Dio Una in senatura Giovanni Non parlare mai più di Gianni Che è il primo estremo Celestiali, immateriali Eteri Ehi, 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 ehi Aia, ai, ai Questo è ai E questo è Ehi Con eterei Eteri Così Caudo di Londra Car In fondo all'autobus Us Us Truccarsi Bravo Bravissimo Porco Dio Truccarsi Truccarsi No Eh no Porco Dio Che cos'è Che cos'è Sì, questo è Togni Nessuno lo saprà mai che l'ho letta Uno strumento come il saracco Sarà Sarà la sega La figa Sarà Questo è appeduti Frate Avvenuti Avvenuti Sì, sì, sì Si esibisce facendo anche juggling Clown 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 Sì Bruccatura Questo è lo staglio mi sa Mi ricordo che l'avevamo fatto già di un altro cruciverba Sì Ok Ci mancano tre lettere Sì Cos'è Se non è scala Pioli 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 Bravo E questo che è A orto Orto A orto A orto Bama Progetto di referendum Finito 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 Stavo nella merda Ma come è definito Orko 2 Ma se è un fenomeno Siamo al terzo gioco Del grande torneo videogiovinistico Videogiochiamo Che warm è quello ragazzi Già mo si piace come pianta Ginepro Va play Olè Olè Come si chiama Che devo downloadarlo Signore in bocca al lupo E che il vostro verme Possa essere più forte Degli altri vermi Vino Vinalo Dio caro Non ho idea Ok perfetto Era quadrato Quadrato era Av Frate guarda che mostra Sono solo loro sotto Che cos'è Quadrato? No porco Dio Dai prova il saltino Marzo Ti pare che caschi L'acqua e mori No te vande sotto Marzo taglia 30 Il car armato 16 Ma che vuol dire? No Marzo Ma sto io Ma bro Non carica Ma c'è uno digitata Va a cantere Non mi sta a tirare la pecora Porco Dio Che cos'è? Che fa? Non esplode la pecora Dai Marzo Ma ci stiamo sabotando Sì Ma non ti dovrebbe pianta L'ha preso L'ha preso L'ha preso Quanto gli leva? 60 80 Orso Vado da quelle no Oddio 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 Ma che cazzo è successo? Ma che giocata era? È andata sulla mina Ok Che fa? È impazzito Intanto Mi ho buttato giù Vabbè è un'acqua Porco Dio Ma come fai da dosta questa botta così? Lo uccidi? Lo massacri? Lo trucidi? Trucidalò Ci vado Ai 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 In acqua E mo? O devi puntare Porco Dio Otto di vita Pezzata È brutta però È brutta però Ah sì Quello è l'otto No Ce n'aveva ancora uno Bro Stai ucciso Bro è rimbalzato Pazzo È rimbalzato Si grode Si grode Ma che era blue win challenge? Che cazzo? Io ho 8 persone 6 l'avete uccise voi Ma è anticlimatico questo finale Ma donna GG GG 2-1 2-1 God Che culo Godo dai Sgrassiamo Sgrassiamo un attimo con Tekken Vai Ma che ne so? Ma che ne so? Che sai tutte le mosse di questo gioco di merda Cazzo Cramino Godo No Va beh Va beh Franco Eh si foda No Franco io Aia Aia Madonna No Mi ha fatto la fagal Il bastardo Ma non è mancato Ma che cazzo sto fede Ma che cazzo è? Frieren Zio porco Dai uccidilo No come mi sei liberato Ma che si inventa sto pazzo? Ma è un fenomeno Eccolo 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 Maestro Vai vai Strudale Ora adesso è strano le vedi Se le uso porco dio Nello No 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 Ho capito Un fenomeno Cazzo L'alimorio No L'alimorio 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 Che f*** La fa La fa Dio mi ti Vinto Ma porco di dio Fatemi capire Perdi Perdi perché perdi te Eh vabbè ma chi da sto giapponese Sopi E' un buon cazzo Grazie Ma che cazzo di come ho fatto? Ma che cazzo di come ho fatto? Un fenomeno Se prendi il cazzo con il main Si dà il punto a noi Avverto Vabbè Bello E adesso parte con queste cagate Exorciste Bello Da dai che è il trezio Porco sto doppio gatto Mamma mia Ja Ui Aia aia Ehi 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 Madonna il caffè Il caffè te l'ha servito nella tazza d'argento Eh niente Perché gli vuole dare Guarda che cosa t'ha fatto No Che merda Porco dio mi hai tirato a me quel puglio sulla fila Mi catapulto proprio Dai porco dio Porco dio Ragazzi ma che sosti Andre grazie a te l'hai bentornato Ma basta porco dio Ha detto duce Eh sì è quello ve lo fa Attenti L'ho sentito L'hai ucciso con il duce L'hai ucciso Che spalma duce Si Dice dulce E poi deve lasciare la firma sulla telecamera Ma va vaffanculo chiudi applicazione No è incredibile Due Gigi Due Gira gira capo Un bellissimo Eccolo lì Eh non forse Non bellissimo Oh mamma mia porco dio Devo stare zitto nella vita Porco dio Una roba allucinante Una scoperta incredibile Una zella Una zella Una zella Ok siamo noi Eh boh te direi di giocarla Ma la verità è che mondo è un movimento Il maestro Cioè ti fa tre passi Ma noi non possiamo andare avanti Calan tampò C'è Malesia Eh ma se poi devi mettere il coso Devi andare sulla mappa E mettere il ping Di che ti dà l'idea ma se Una roba del genere Corsica Non è mai la Corsica Bravo ma se Dai che andiamo Dai che andiamo Bravo We shall E English Repubblica in Sudafrica Repubblica in Sudafrica Porco dio Eh vabbè ma che culo No eh lo sanno lo sanno Eh vai Sud America dici Sì secondo me in Sud America Bello bello Abbiamo preso Abbiamo preso Abbiamo preso Vicino ai dovita Questa è in India 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 Questa è in India Questa è in India Sì 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 andrei in India Permettegli pure un po' di ansia Capito Io metto qua allora Lo sapevo che era Porco dio bravo Bravissimo Eh no c'era un po' del culo Oh no ho perso Ah gliel'ha messo sopra Cioè gliel'ha messo sopra Porco dio Ci vive il maestro qui Porco dio Si metti un statico con movimento Guarda l'intorno Guarda l'intorno Vedi se FC Ehi Poliast 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 Io provo Empoli Cazzo me frega Tu fai qualcos'altro A me sa De Romania Bello Oddio ma sei incredibile Bello Bello Incredibile questa Swiss Marz Swiss Sì Swiss Mad Swiss Mad Swiss Mad Io metto qua Io metto qua Guarda Io vado in Germania Sì Vado al centro da Germania Non lo so Volà Polonia Come fa a sapere dove cazzo Sono sti stadi Peter White Questa è roba di inglese Vabbè si vede No sì Vai in Inghilterra Vai in Inghilterra Prendi il sotto dell'Inghilterra E io prendo un po' il sopra No è la presa La presa tutta No ancora Siamo vivi Siamo vivi Siamo vivi Vestupedetti 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 Questa roba di Repubblica c'è cazzi Non li devi far ragionare Vai in Austria Grazie in Austria Grazie in Austria Dove ti sto pingando No qua 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 Andiamo verso Porco dio Eh figure Eh arrivederci Grazie User join your channel Vienno Che c'è la porco dio Basta manca stranne Una prescia Ma guarda che vi ha detto male Solamente perché me sto girato Io ho visto la scritta E quindi dalla scritta Sono dossato Sì opera Cambi di fronte Incredibili 1-0 per loro 2-1 per noi 3-2 per loro Che fornavito giochistico Veramente fascista Pazzesco Incredibile E niente Sbagliato Io Non ho sbagliato Qualche oggetto Di oggettivo Veramente volevo dire Veramente molto bello Volevo dire Non volevo dire Oh ok